La giornata di ieri penso che sia stata una grande e importante giornata che ci ha permesso di analizzare questo grande tema degli indicatori. Che cosa è? Nei fatti come in ogni compagnia, come quelle delle auto, noi facciamo delle cose, dobbiamo capire quali sono gli indicatori per dirci se le facciamo bene, se le facciamo male, che è un modello di sicurezza per la gente che ci si affida. Ci sono delle grandi difficoltà perché ogni paese ha sviluppato un proprio mondo, un proprio universo di conoscenze e dobbiamo metterle assieme anche per fare in modo che sia possibile usarle le stesse in ogni paese d'Europa. Stiamo iniziando questo grande lavoro che io penso sia molto molto importante e che ci possa dare dei grandi successi e dei grandi traguardi per iniziare ad avere una piattaforma comune che cambi l'organizzazione del lavoro nel senso che dia nel controllo delle procedure una maggior certezza di qualità per l'utenza.